allora ragazzi bentorni nella rubrica del cinema questa volta puntata speciale perché parliamo di una cosa un po particolare ovvero il film di sonic che sta per uscire che è stato al centro un po di delle polemiche molto molto dure in pratica cosa è successo è successo che diversi mesi fa era stato annunciato il film di sonic noto personaggio dei videogiochi che tanti conoscono per ad esempio il gioco per megadrive gioco per master system tutti i giochi che erano belli poi tutti i giochi moderni di cui alcuni sono belli e altri sono veramente brutti comunque tipo sonic boom fa schifo veramente e comunque ragazzi sonic fra alti e bassi ultimamente succede anche dei bei giochi di sonic come esempio sonic mania che bellissimo ce ne sono anche altri comunque belli ben fatti e comunque che succede ragazzi anche sonic generation vedete qui ad esempio qui vedete il design del sonic nuovo e del sonic vecchio quello degli esordi il sonic nuovo come vediamo un po più snello un po più alto un po più così diciamo dall'impressione più di essere ancora più più duro no mentre invece quello quello vecchio è un po più tenerello un po più cartoon però comunque vedete molto simile il design e invece che hanno fatto nella versione nuova cinematografica hanno fatto un bel casino perché come nella locandina già si vede che l'ombra è tutta muscolosa e quindi sembra più che un un porcospino diciamo animato fantastico sembra una specie di centometrista con un capoccione e il nasino all'insulce ma che a tutti dicono tutti a speculare come sarà come non sarà sto sonic è un certo punto è uscita un'immagine è uscita un'immagine che lo faceva vedere di straforo però non ve la faccio vedere ora ve la faccio vedere dopo perché questa immagine qua un po controverse che va a ribaltare un po tutta la ponte ragazzi c'è stata una grossa sorpresa alla fine di questa puntata ve la farò vedere dopo allora che è successo pochi giorni fa è uscito il trailer ufficiale ok dove si vede sony che sono i protagonisti umani si vede jim carrey che fa addirittura il dottor robot nick e vedete come vedete qui il design di sony che è veramente una cosa oscena non somiglia affatto il sony originale è troppo più magro troppo più alto si ha gli occhi strani hanno voluto fare una cosa tipo detective pikachu che sta uscendo al cinema anche lui in questo periodo che però pikachu l'hanno fatto benissimo in realtà in modalità realistica perché tipo una palla di pelo gialla simpatico per esempio una specie di conigli un incrocio fra un coniglietto e un criceto come in effetti pikachu è pikachu nell'originale cartoon e nelle originali videogiochi della serie pokemon è così è un incrocio fra un sorcio giallo e un un coniglietto però elettrico di spara le scosse storie che invece da col porco spino l'hanno reso una specie di gatto schiattato brutto c'è una specie di sorcio no si è una specie di sorcio investito per strada oppure come diceva l'angri video game nerd road kill skank che sarebbe la puzzola investita sul sull'autostrada insomma sull'autostrada americana e insomma come vedete qui dalle immagini da questi poster sto sony che veramente inguardabile allora che è successo internet su internet tanta gente si è incazzata detto magari combinato c'hanno ragione magari combinato c'è sonic personaggio della nostra infanzia ce l'avete rovinato così come è successo anche poco tempo fa pochi anni fa con le tartaruke ninja quelle versione niga tartaruke ninja versione realistica che l'hanno fatte che non lo so che cacchio sembrano sono strani sono tipo di dinosauri non lo so che cacchio sono delle mostruosità e l'hanno rovinate anche lì nel design però che succede qua in sonic hanno fatto di peggio perché lì quel design lì delle tartaruke ninja potrebbe avere un senso questo invece di sonic non c'è proprio senso perché non somia all'originale non è bello non somia un porcospino non è simpatico cioè è una cosa odiosa veramente una cosa inguardabile l'unica cosa bella è che la voce del doppiaggio italiano l'hanno affidata allo stesso doppiatore originale che doppia tutti i videogiochi quindi una cosa questa è una cosa molto positiva però non basta non basta e questo discorso vale anche un po per il robot nick di jim carrick jim carrick grande attore che anche passato un brutto periodo di forte crisi esistenziale forte depressione perché qualche anno fa morì la sua fidanzata e lui veramente era caduto in un baradro nero diceva delle cose assurde nelle interviste cioè perché jim carrick è una persona molto intelligente come sappiamo e già le persone con un alto cosiddetto intellettivo hanno una certa facilità a cadere nella depressione no perché si pensa troppo magari si pensa troppo all'esistenza queste cose qua e jim carrick diciamo che questo lutto l'aveva veramente buttato a terra ma finalmente si è ripreso sta ricominciando a fare film lui è molto bravo come attore che lo apprezzo molto è un grande attore non solo comico anche drammatico abbiamo visto in eternal sunshine of the spotless mind in italiano se mi lasci ti cancello che era veramente un bel film e lì usciva fuori anche la sua parte drammatica ok e per oggi jim carrick lui è bravissimo però il robot nick che hanno fatto non somiglia quasi per niente al robot nick originale dei videogiochi diciamo che l'hanno un po parecchio stravolto però alla fine del trailer si vede un'immagine dove c'è un robot nick diciamo tutto bruciacchiato che ha perso i capelli e con i baffi tutti scombinati che somia molto di più a quello del videogioco originale però già si capisce che quella una scena post credit sarebbe alla fine del film già hanno fatto sto spoiler che jim carrick dopo che lo che sonic lo sconfigge lo bruciacchia per così dire lui diventa molto più simile a quello del videogioco il che ci sta però è uno spoiler perché poi sicuramente alla fine del film se vede jim carrick pelato e poi diciamo fanno un rimando ad un possibile seguito dove robot nick oppure egg man come lo volete chiamare sarà uguale o molto simile a quello del cartoon quindi in un secondo episodio dove eventualmente jim carrick è molto più truccato e molto più simile a quello del cartoon e dei videogiochi di sonic ok però andiamo al punto ragazzi il punto qual è che ovviamente su internet si è fatto un po un casino e tanta gente si è incacchiata e visto che su internet è pieno di persone anche creative anche professionisti eccetera eccetera che hanno fatto magari persone che ci tenevano a questo progetto sono stati fortemente delusi dal trailer hanno deciso di fare loro stessi una versione di sony si sono armati di photoshop e quindi sono cominciato a fioccare come funghi delle versioni alternative di sonic vedendo in realtà in maniera più realistica come il pikachu di detective pikachu però molto più fedele a quello del del videogioco infatti come vediamo sti design sono veramente uno più bello dell'altro e sono veramente belli allora io a questo punto mi sono detto ok magari dopo tutto sto backlash sarebbe dopo tutto sto queste critiche al film ovviamente la paramount teme che la gente non va a vedere il film dopo tutto questo odio però io avevo pensato magari dopo tutto sto casino succede come è successo con mass effect 3 il videogio di electronic cards ovvero tanta gente si lamenta e la casa di produzione fa dei cambiamenti per venire incontro al pubblico e questa volta a volte il pubblico dice stronzate però stavolta il pubblico c'è ragione perché sono sonic faceva veramente cagare faceva veramente schievo allora che hanno fatto hanno deciso di ascoltare i fan e anche vedere tutti i design che hanno fatto sti fan per creare un sonic migliore che non si sa come sarà io spero che sarà simile a quello che vediamo qui in alcuni dei nostri design questo qui è particolarmente bello guarda quanto è bello questo design è qui spero che faccia una cosa molto simile però c'è un ragazzi come dicevo all'inizio dell'episodio c'è un c'è un piccolo particolare strano in tutta questa vicenda ma non vorrei fare la solita tetrologia le solite cose però secondo me c'era qualcosa di studiato a tavolino adesso no aspetta no non parliamo né di nicolas cage che fa sonic che il cacchio c'entra questo non c'entra niente né dei veri porcospini agghindati come sonic li vedi ora questo fa morire le risate guardate con l'anellino fa morire le risate però no non è questa non è questa e poi guardate ci sono anche dei fan che hanno detto sì va bene perché è premente il uno dei responsabili effetti speciali aveva scritto gara fix fest perché il come si dice lo slogan di di sonic era gara go fest che vuol dire devo andare veloce lo dice pure all'inizio del trailer e in pratica questi qui degli effetti speciali avevano detto gara fix fest che dobbiamo sistemare le cose velocemente è una specie di rimando allo slogan di sonic no e alcuni si sono preoccupati hanno detto sì andate però non ammazzatevi di lavoro non fate crunch time non fate che la paramount per sistemare sta magagna vi fa fare dei turni massacranti al lavoro ma io penso che questo non sia il caso ragazzi perché se noi andiamo a vedere un'immagine che era saltata fuori ok c'era un'immagine che era saltata fuori subito dopo quella della silhouette di sonic e prima del trailer questa immagine intermedia mostrava un sonic realistico ma molto molto più simile a quello del videogioco rispetto a quello del trailer che abbiamo visto all'inizio rispetto alla puzzola morta che abbiamo visto nel trailer e infatti adesso ve lo faccio vedere se andiamo a vedere c'è questo poster dove si vedeva il poliziotto steso con gli occhiali da sole e si vedeva sonic pure lui steso che gli mette i piedi in testa al poliziotto e guardate guardate questo qui è un design ufficiale perché come vedete questa è una foto stata fatta di straforo da un poster preliminare che non doveva uscire e come vedete il design di sonic è molto diverso da quello che vediamo nel trailer e non è eccezionale non è bello come alcuni di quelli che abbiamo visti fatti con photoshop dai fan però è molto migliore rispetto a quello che si vede nel trailer allora io a questo punto mi chiedo è possibile non vorrei fare di etrologia però c'è questa possibilità è possibile magari che la paramount vedendo che il film poteva essere un flop anche se fatto bene il design ha detto ok facciamo un trailer solo il trailer dove montiamo dentro il design non definitivo perché magari sono andati nel processo creativo hanno fatto diversi design di sonic e poi hanno scelto quello più adatto hanno fatto uscire un trailer dove il sonic era quello non definitivo dove il sonic era uno di quelli scartati infatti è bruttissimo non ci credo che la paramount voleva effettivamente fare un film così e hanno pilotato tutta questa cosa si aspettavano già il backlash si aspettavano già che tutta la gente che ridicava e si incazzava per poi dopo dire ok lo sistemiamo e far poi uscire il film il trailer vero il film vero come già l'avevano fatto e come lo vediamo qui nel design questo design è qui quanto ci scommettete che il design finale sarà esattamente questo che vediamo in questo poster preliminare uscito di straforo secondo me sarà così ragazzi va bene ma ci sarà una piccola c'è una piccola riflessione sul fatto che magari internet quando lotta tra virgolette queste cose farebbe meglio a lottare per cose più importanti come ad esempio le disuguaglianze sociali le ingiustizie il clima tutte queste cose qua però però insomma questo vi fa vedere che i fan quando si mettono insieme riescano a fare dei cambiamenti io spero che questi cambiamenti si riescano a fare anche su cose più importanti di un film però nel mio piccolo sono contento che diciamo che il film non esca con quel sorcio brutto schiattato il gatto puzzola investita che abbiamo visto nel trailer e per questa volta è tutto ragazzi ci vediamo al prossimo episodio del cinema ciao ragazzi alla prossima